Siamo nello splendido scenario di acqua morta alle nostre spalle San Martino ma stavolta non ci occupiamo di ambiente bensì di politica. E' notizia di qualche giorno fa delle dimissioni, così si dice in piazza 27 gennaio, del consigliere Capuano e della consigliera Scotti. Ma c'è una piccola differenza, molti fanno confusione, non si tratta di dimissioni ma della nascita di un gruppo indipendente all'interno del gruppo di maggioranza. A spiegarci le cose sono proprio i protagonisti. Allora, siamo qui infatti con Salvatore Capuano, vogliamo spiegare la differenza, non sembrerebbe sottile ma invece di sostanza, la differenza tra dimissioni e invece la nascita di un gruppo indipendente. Infatti la prima cosa voglio specificare e sottolineare che siamo consiglieri comunali ancora in carica. La differenza è nella sostanza, nel senso che noi siamo stati eletti con il gruppo Montemigliore, abbiamo creato un gruppo indipendente costituito da me e la dottoressa Nunzia Scotti. Ci siamo dichiarati indipendenti, abbiamo formato un ulteriore gruppo e per motivi proprio morali, politici ed amministrativi abbiamo deciso di restituire le deleghe al sindaco. Allora Salvatore, perché questa scelta, cioè perché far nascere un gruppo indipendente all'interno della stessa maggioranza? Diciamo che nella sostanza in questo primo anno abbiamo riscontrato delle incompatibilità politiche su alcune scelte, per questo abbiamo deciso di avere una vera e propria indipendenza. Noi vogliamo, atto per atto, valutare l'attività dell'amministrazione. Allora, diciamo che noi non abbiamo approfondito le motivazioni, al di là della lettera di dichiarazione di indipendenza, le motivazioni profonde non le abbiamo specificate, perché poi a settembre, dopo lo stop estivo, questa cosa meriterà più attenzione, anche una discussione in Consiglio Comunale, quindi così abbiamo deciso. Tuttavia, il nostro emendamento rappresenta a 100% quelli che sono i nostri principi e già il fatto che è stato approvato all'unanimità da tutto il Consiglio Comunale, quindi questa è una cosa mai successa nella storia, che sia la maggioranza che l'opposizione approvassero all'unanimità un emendamento fatto da un gruppo, un neogruppo, praticamente già questo ci rende molto orgogliosi e lancia quella che è la nostra idea in generale. Ovviamente, nonostante l'approvazione dell'emendamento, abbiamo deciso comunque di non approvare il bilancio, ma di astenirci, ma ci lascia molto fiduciosi questa cosa che in futuro riusciremo poi con l'altro gruppo Montemigliore a collaborare al 100%. Allora, io avevo letto, ovviamente abbiamo pubblicato su montediprecita.com anche la lettera con la quale si faceva nascere appunto questo gruppo indipendente, mi chiedevo, si legge tra le righe una certa distanza con il resto della maggioranza, distanza che avvertite giorno per giorno nel quotidiano oppure che volete semplicemente rimarcare nei diversi atti che si faranno poi? Infatti, noi vogliamo sottolineare un aspetto fondamentale, noi non chiediamo cariche, è un gruppo politico atipico, noi vogliamo dare solo il nostro contributo e per questo abbiamo creato questo gruppo, assolutamente non vogliamo carichi, non vogliamo portafogli, non vogliamo niente, vogliamo solo fare proposte per l'interesse collettivo e speriamo di dare un impulso maggiore all'attività amministrativa, quindi attualmente rimaniamo in maggioranza ed è importante per i cittadini capire che questo gruppo ha solo la volontà di dare una maggiore attività amministrativa alla maggioranza, cioè dare un contributo maggiore, visto che dall'interno in alcuni casi non siamo riusciti a dare il contributo che volevamo. Ecco, probabilmente le persone che ci stanno seguendo si chiederanno, non era meglio rimanere all'interno dello stesso gruppo di maggioranza per dare più spinta all'azione amministrativa? Chiaramente noi il tentativo l'abbiamo fatto per un anno, molti ci hanno detto che un anno non era sufficiente per capire la politica montese come andava avanti, a noi è bastato e la dimostrazione è stata proprio l'approvazione dell'emendamento perché probabilmente con un input all'interno del gruppo del genere noi non saremmo stati ascoltati, probabilmente, mentre con un emendamento fatto da un gruppo indipendente abbiamo avuto la conferma, per cui abbiamo deciso di staccarci. Voi avevate delle deleghe che interessavano da vicino i giovani, le avete rimesse al sindaco, adesso il vostro impegno per i giovani di Monte di Procida rimane intatto? Avete bisogno di altro? No, noi faremo un'attività ancora maggiore proprio proponendo mensilmente proposte proprio di delibera alla maggioranza che spero saranno approvate. Volevo solo aggiungere una cosa a quello appena detto da non ci ascolti. Questo emendamento è stato fondamentale per noi perché per la prima volta abbiamo tolto dei fondi che ritenevamo spese non necessarie, abbiamo dato un contributo contro la povertà, cioè un contrasto alla povertà che è passato da 8 mila euro al 26 mila euro, una cosa che non si era mai visto prima. Per noi era necessario in questo momento di crisi economica dare un contributo fattivo alle famiglie che praticamente non possono mettere il piatto in tavola, quindi prima di fare qualsiasi altra attività, qualsiasi altra spesa come il contributo per le bici elettriche, che sicuramente è un'attività meritevole di tutela, ma non in questo momento storico. Questa è stata la nostra difficoltà, cioè capire le priorità dell'amministrazione. In questo momento ci devono essere priorità che vanno contro la povertà, perché è un momento di crisi nazionale e montese, cioè perdono lavoro ogni giorno persone. Noi quotidianamente abbiamo ricevuto persone al comune che non potevano mangiare e l'amministrazione in questo momento particolare deve solo andare incontro a queste criticità. E allora, ultime due domande flash. La prima, questo neogruppo è formato da Nunzia e da Salvatore. Ci sono altre richieste? Perché lo devo dire, Radio Piazza, non Radio Piazza Live, ma Radio Piazza dice che c'è qualcuno che si sta avvicinando a voi. Sì, in realtà durante il Consiglio Comunale, Monte Pugliese ha fatto una dichiarazione di indipendenza. Noi speriamo, auspichiamo, che qualsiasi membro della maggioranza e dell'opposizione possa far parte di questo gruppo, perché la nostra intenzione, e la voglio risottolineare, non è quella di andare contro qualcuno, ma andare a favore dei montesi. Quindi più ne saremo e più forza avremo, proprio per dare il nostro contributo a Monte di Procede. Per questo il nostro gruppo si chiama Giovani per Monte di Procede. Speriamo di dare effettivamente un contributo positivo. Invece, Lucia, a te ti chiedo, se col tempo capite che non c'è la possibilità poi di riavvicinarsi al resto della maggioranza, quali saranno ovviamente le cose che questo gruppo si sentirà di fare? Beh, io penso che non avremo difficoltà in questo. Noi siamo indipendenti, vogliamo rimanere di maggioranza perché così hanno voluto i nostri lettori, ed è giusto che sia così. È chiaro che stando nella maggioranza noi potremmo essere più incisivi. Quindi per il momento non pensiamo di svincolarci da questa cosa, ma vogliamo rimanere fermi su queste decisioni. E allora noi vi ringraziamo e vi auguriamo buon lavoro. Grazie. Grazie. Grazie.